Vediamo un pochettino cosa combinano Vladimir e Kieratovsky Una serie per il maestro Un applauso Non funziona, la filosofia non funziona Sta funzionando Questa è musica ragazzi Che succede? E adesso un secchio Ancora acqua E questo strumento fa acqua da tutte le parti Ancora Vi parate dei bambini Ve lo dicevo che erano tutti pazzi qua Cosa mi tocca fare? Attenzione all'acqua Attenzione ai bambini E adesso Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un applauso per Piatoschi.